Musica Questo splendido aero giallo spesso lo vediamo volteggiare nei cieli di Fano e in molti si sono anche chiesti chi è a pilotarlo, qual è il suo lavoro, perché lo fa e quindi noi siamo venuti all'aeroporto di Fano proprio per conoscerlo, per conoscere colui il quale è ai comandi di questo aereo, mentre intanto le attività qui all'aeroporto di Fano vanno avanti, noi siamo in una splendida mattinata di sole e incontriamo il comandante Sappignoli che è colui che è ai comandi di questo velivolo, ma l'ho chiamato giustamente comandante, lui è un pilota di linea, è un comandante e quella è la tua, la sua attività predominante Esatto, esatto, il mio lavoro è pilota di linea, sono un comandante su aereo di lungo raggio sul 787, Boeing e quello però è per carità bellissimo lavoro, ma è un lavoro, è un lavoro dove si sta per aria, però rimane pur sempre un lavoro Che fai da tanto tempo? Sì, io ormai sono vent'anni, vent'anni che volo, sì, ho cominciato ovviamente, ho fatto tutta la carriera lentamente e niente, questo è il mio lavoro Però ha questa passione, questo hobby del volo acrobatico, spesso la vediamo volteggiare per i nostri cieli, com'è nata, perché questa... Allora, tutto parte da un amore folle per il volo ovviamente, se no non sarei qua nei miei giorni di riposo a volare, ecco, uno può pensare strano, no? Uno che vola tutto il giorno, ma questo, diciamo volare con queste tipologie di aeroplani è il volo a parere mio più bello, più bello che ci sia, quindi uno soddisfa le proprie passioni al massimo, quindi tutto nasce per la passione del volo Di lì poi si entra in mondo dell'acrobazia, che secondo me è l'espressione massima del volo perché è una disciplina, è una disciplina che agli occhi di molti può sembrare un semplice volo folle ecco, e invece quello che io tengo sempre a chiarire, non è un volo folle, è tutto dietro ogni manovra ci sono ore e ore e ore di allenamento, preparazione a terra studio, studio aerodinamico della manovra, non è un'improvvisazione, nulla, nulla improvvisato perché poi diventerebbe pericoloso Non è che monta sull'aereo e dici oggi faccio... Cioè, no, un caldo, perché molti si chiedono ma questo... Sì, io ho anche tanti amici, dicono ah tu sei matto, ma no, è tutto studiato a tavolino prima, briefingato, poi si va in volo, si fanno queste manovre, si provano a quote diverse, a seguito della manovra, è una cosa diciamo molto seria, molto seria e va preso soprattutto con un approccio molto professionale, perché il segreto è quello Perché fanno, perché proprio qui da noi hanno voluto basare il suo aeroplano, la sua attività Io, vabbè, sono sempre in giro per mezzo mondo, però diciamo sono originario di Rimini Ho un figlio di due anni, una moglie con cui viviamo tutti a Rimini e quindi fanno, diciamo un aeroporto che si presta molto a questo tipo di attività perché abbiamo un box acrobatico c'è un'area adibita da parte dell'ENA, che diciamo è l'ente di controllo, a effettuare acrobazia, dove infatti io principalmente volo su, diciamo l'aeroporto, perché? Perché non ci sono case sotto, non ci sono abitazioni, sono tutte regole europee tra l'altro da seguire, quindi fanno, abbiamo la fortuna di avere uno di questi box acrobatici, che ce ne sono, mi sembra non molti in Italia, saranno 4 o 5 box sparsi in tutta Italia c'è una bellissima struttura, bellissimi hangar, una bella pista lunga in erba, che per il nostro tipo di attività aiuta anche abbastanza la pista in erba Io vedo però che c'è uno strip qui sulla tuta, che ricorda un'associazione perché volare è bello, però se si può fare qualcosa di bene e di positivo anche col volo Esatto, no, non guasta mai, non guasta mai, ed è quello che abbiamo creato a maggio, questa associazione, è una associazione benefica, si chiama 27 Aerobatics, se lo vogliamo dire in inglese, è un'associazione che promuove il volo e il volo acrobatico, è abbastanza dura perché cerchiamo sempre qualche piccolo sponso, ci sovvenzioniamo da soli, quindi non è una vita facile, però tutto ciò che noi non è assolutamente a fine, è no profit, quindi tutto ciò che noi possiamo racimolare, cerchiamo di donarlo in beneficenza a chi magari è meno fortunato di noi e ne ha bisogno. Facciamo anche degli open day, a volte abbiamo invitato anche dei bimbi, scolaresche, oppure ci sono alcuni centri qua attorno che magari, per regalare magari a tanti ragazzi la possibilità di vedere da vicino un aeroplano, da poter parlare, magari chissà, magari come è capitato a me a cinque anni, avere un flash, esatto, e da grandi, qualche anno dopo magari li vediamo ai comandi di un aereo di linea, esatto. Qualche talento in erba, lo facciamo. Sarebbe bello, sarebbe bello essere i primi a avviarli o a fargli venire questa passione. A me mi è venuta la passione, però poi non l'ho portata avanti, però non si può mai sapere. No, ma poi della vita mai dire mai, mai dire mai, ma non c'è mai, si può volare fino, la gente dice fino a quanti anni, finché sei in salute. Esatto. Io ho amici di realmente 75 anni che ancora volano, vanno in giro, ottimi piloti, non ovviamente a livello di professione, a livello di sedi e quindi non c'è limite all'età, da 17 anni in su si può volare. In su, a salire. Sarebbe che lo metta al minimo. Sarebbe che lo metta al minimo.